Verità non negoziabile da un lato, comprensione per la debolezza umana dall'altro. Sono i due aspetti importanti che Papa Francesco ha messo in risalto commentando nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta, il labbrano del Vangelo in cui Gesù parla con i farisei dell'adulterio e del matrimonio. Cristo, ha affermato il Papa, supera la visione umana, che vorrebbe ridurre la visione di Dio ad una equazione casistica e soprattutto non cade nelle trappole dei dottori della legge quando gli domandano se sia lecito ripudiare la propria moglie, ma guarda oltre alla pienezza di un sacramento voluto da Dio perché l'uomo e la donna siano una carne sola. La durezza del cuore, ha spiegato poi il pontefice, ci allontana dal padre e chiude la porta al perdono. In questo mondo che viviamo, con questa cultura del provvisorio, questa realtà di peccato è tanto forte, no? Gesù, ricordando Mosè, ci dice ma c'è la durezza del cuore, c'è il peccato, qualcosa si può fare, il perdono, la comprensione, l'accompagnamento, l'integrazione, il discernimento di questi casi, no? Ma sempre, ma la verità non si vende mai. E Gesù è capace di dire questa verità tanto grande e alla volta essere tanto comprensivo con i peccatori, con i deboli. Davanti ad otto coppie che hanno celebrato proprio a Santa Marta il loro cinquantesimo di matrimonio, Papa Francesco ha rinnovato l'invito ai coniugi ad usare tra di loro verità e comprensione per superare ogni difficoltà, ma lo stesso invito ha voluto rivolgerlo a tutti i cristiani perché sappiano aiutare quei matrimoni feriti e accompagnarli nel cammino di avvicinamento a Dio senza accusare né giudicare, ricordando che Gesù all'adultera che sta per essere lapidata ha detto, neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Grazie.